La musica di Eric Zahn, di Howard Phillips Lovecraft. Ho esaminato le carte della città con la massima cura, ma non ho ritrovato la ruda ausil. Aggiungerò che non mi sono limitato ai documenti moderni perché è un fatto che i nomi delle strade cambiano. Anzi, mi sono tuffato nelle antichità topografiche della zona e credo l'aver esplorato personalmente tutte le vie, a prescindere dal nome che avrebbero potuto corrispondere a quella che cercavo. Ma nonostante i miei sforzi, rimane l'umiliante realtà che non sono riuscito a individuare né la casa né il quartiere dove, durante gli ultimi mesi della mia povera vita di studente universitario in metafisica, ho ascoltato la musica di Eric Zahn. Che io abbia una memoria debole non meraviglia. Per tutto il periodo che ho abitato in Rudausil, la mia salute fisica e mentale non è stata normale. Ricordo inoltre di non averci mai condotto amici o conoscenti. Ma che io stesso non riesca a trovare il posto è strano e mi lascia perplesso perché non era più di mezz'ora a piedi dall'università e aveva certe caratteristiche peculiari che nessuno che ci sia passato potrebbe dimenticare. Devo aggiungere che non ho mai incontrato nessuno che abbia visto la Rudausil. Si trovava al di là di un fiume scuro, fiancheggiato da magazzini di mattoni con piccole finestre cieche e attraversato da un vistoso ponte di pietra nera. Lungo il fiume c'era sempre ombra, come se il fumo delle vicine fabbriche cancellasse il sole per sempre. Dal fiume usciva un miscuglio di odori sgradevoli che non ho mai sentito altrove e che un giorno potrebbe aiutarmi a identificarlo perché lo riconoscerei senz'altro. Oltre il ponte c'erano una serie di stradine con l'acciottolato in porfido e piccoli parapetti. Poi cominciava la salita, prima graduale ma incredibilmente ripida quando si arrivava alla Rudausil. Non ho mai visto una strada stretta e ripida come quella, quasi un'erta chiusa a tutti i veicoli. Consisteva di una serie di gradinate che si succedevano a breve intervallo e terminava con un alto muro coperto d'edera. La pavimentazione era irregolare, a volte lastre di pietra, a volte cubetti di porfido e in certi tratti, pura e semplice terra su cui stentava una vegetazione verde e grigiastra. Le case erano alte e i tetti aspioventi. Il vicinato mi impressionò particolarmente. In un primo momento per il silenzio e la reticenza della gente, poi per la sua grande vecchiezza. Non ricordo come ci arrivai, ma quando giravo in quelle strade non ero più me stesso. Avevo abitato in parecchie zone povere, sempre scelte per mancanza di denaro, e ritengo di essere capitato in Rudausil per caso. Lì mi fermai nella casa diroccata del paralitico Blandu. Era la terza a cominciare dalla sommità della via e di gran lunga la più alta. La mia stanza era l'unica abitata al quinto piano, perché la casa era quasi vuota. La sera del mio arrivo sentii una strana musica scendere dalla mansarda sotto il tetto e il giorno seguente chiesi informazioni a Blandu. Mi disse che si trattava di un vecchio suonatore di viola, un tedesco muto che si firmava Erich Zahn e che di sera lavorava in un'orchestrina teatrale. Dopo aver finito il lavoro gli piaceva suonare qualcosa alla notte, ed era questa la ragione per cui aveva scelto l'alta e solitaria mansarda, la cui finestra da baino era il solo punto del quartiere che guardasse oltre il muro d'Edera e da cui si vedesse il panorama che si stendeva oltre. Da allora sentii ogni sera le sonate di Zahn, e sebbene mi tenessero sveglio ero ossessionato dalla loro singolarità. Conoscevo ben poco la sua arte, ma ero certo che gli accordi che creava non avessero il minimo rapporto con la musica normale, ne conclusi che era un compositore di genio. Più lo ascoltavo più ne ero affascinato, finché, dopo una settimana, decisi di fare la sua conoscenza. Una notte tornava dal lavoro, intercettai il vecchio in corridoio e gli dissi che mi sarebbe piaciuto frequentarlo ed essere con lui quando suonava. Era un individuo piccolo, magro, curvo, vestito poveramente, con due occhi azzurri che brillavano in una faccia grottesca da satiro. Aveva una testa quasi calba, e alle mie parole reagì con irritazione e un po' di spavento. Placato finalmente dalle mie intenzioni amichevoli, con una certa scontrosità, mi fece segno di seguirlo. Percorremmo le scale vertiginose, cigolanti e buie che salivano all'attico. La sua camera, una delle due che costituivano la mansarda, era sul lato occidentale e dava sul muro coperto d'edera che chiudeva la strada. Era una stanza grande e lo sembrava di più per la sua eccezionale nudità e trascuratezza. L'arredamento si limitava a un piccolo letto di ferro, un lavabo sgangherato, un tavolino, una libreria di una certa ampiezza, un leggio per musica e tre vecchie sedie. Sul pavimento erano disseminati spartiti, le pareti erano di assi nude e probabilmente non avevano mai conosciuto l'intonaco, mentre l'abbondanza di polvere e ragnatele lo faceva sembrare un luogo disertato più che abitato. Era evidente che il mondo dell'armonia, per Eric Zhang, risiedeva in un lontano universo dell'immaginazione. Mi fece segno di sedermi e chiuse la porta col pesante lucchetto di legno, poi accese una candela per aumentare l'effetto di quella che aveva portato con sé. Tolse la viola dalla custodia, divorata dalle tarme e si sedette nella meno scomoda delle sedie. non guardò il leggio, ma senza offrirmi scelta e suonando a orecchio, mi incantò per un'ora con invenzioni inaudite, invenzioni che si dovevano a lui senz'altro. Tentare di descriverle è impossibile per uno che non abbia inclinazioni musicali. Si trattava di una specie di fughe, con passaggi ricorrenti di qualità straordinaria, ma quello che mi colpì fu l'assenza degli accordi fantastici che avevo sentito dalla mia stanza in altre occasioni. Ricordavo quelle note misteriose e a volte le avevo canticchiate o fischiate tra me senza farci caso. Così, quando il musicista posò l'arco, gli chiesi se fosse disposto a farmela ascoltare. La faccia rugosa da satiro perse l'espressione di noia e tranquillità che aveva avuto durante il concerto e tornò a esprimere il miscuglio di rabbia e di paura che avevo notato al momento dell'approccio. Pensai che sarei riuscito a convincerlo. Vincendo le resistenze senili, per risvegliare la sua vena fantastica, accennai a uno dei motivi che avevo sentito la notte prima. Segui questa tattica per pochi secondi, perché quando il mutuo riconobbe l'aria che fischiavo, la sua faccia subì un'alterazione incomprensibile e la mano destra, fredda e ossuta, balzò verso la mia bocca per bloccare la cruda imitazione. Questo strano atteggiamento fu accompagnato da un'occhiata di terrore verso la solitaria finestra nascosta dalle tende, come se Zante messe l'ingresso di un estraneo. La cosa era doppiamente assurda, perché la mansarda dominava dall'alto i tetti circostanti ed era irraggiungibile. Come aveva detto l'affittacamere, la finestra era l'unico punto di tutta la strada da cui si vedesse oltre il muro d'Edera. La direzione dell'occhiata mi ricordò le parole di Blandot e mi venne il capriccio di ammirare il vasto e rutilante panorama che di tutti gli abitanti di Rouda Ozil solo il bizzarro musicista poteva vedere. Sotto di noi doveva stendersi un mare di tetti illuminati dalla luna. Mi inquilino muto non mi fosse balzato addosso con un misto di rabbia e paura, ancora più sconvolgente di prima. Mi indicò la porta con un cenno della testa e cercò di trascinarmi con tutte e due le mani in quella direzione. Disgustato da quell'atteggiamento incomprensibile, gli chiesi di lasciarmi e gli promesi che me ne sarei andato immediatamente. La stretta di Zan diminuì e, vedendomi offeso e stupito, il mio ospite sembrò calmarsi un poco. Mi strinse il braccio, stavolta cordialmente e mi fece sedere. Poi, con aria triste, si mise dall'altra parte del tavolo e cominciò a scrivere un lungo messaggio a matita, nel francese stento di uno straniero. Il biglietto che alla fine mi consegnò era un appello alla tolleranza e un'offerta di scuse. Zan diceva di essere vecchio, solo e afflitto da strane paure, disordini che avevano a che fare con la sua musica e altre cose. Gli aveva fatto piacere avermi come ascoltatore e sperava che sarei tornato, a prescindere dalle sue eccentricità. Doveva mettere in chiaro, però, che non poteva suonare ad altri le sue creazioni fantastiche e non sopportava di sentirle ripetere. Non tollerava, inoltre, che si toccassero gli oggetti della sua stanza. Fino al nostro incontro non aveva immaginato che io potessi sentire la sua musica e ora mi chiedeva di accordarmi con Blandot perché mi desse un'altra camera, magari a un piano inferiore. In questo modo avrei avuto notti più tranquille e lui avrebbe pagato l'eventuale differenza di prezzo. Mentre decifravo quel francese orribile, cominciai a sentirmi più tollerante nei confronti del vecchio. Era vittima di sofferenze fisiche e nervose simili alle mie e gli studi metafisici mi avevano insegnato la comprensione. Nel silenzio è che già un piccolo rumore che veniva dalla finestra. Le imposte dovevano aver sbattuto al vento della notte, ma per qualche motivo sussultai con la stessa violenza di Eric Zahn. Quando ebbi finito di leggere strinsi la mano del mio ospite e me ne andai da amico. Il giorno dopo Blandot mi assegnò una camera più cara al terzo piano, fra l'appartamento di un vecchio usuraio e la stanza di un rispettabile tappeziere. Al quarto piano non c'era nessuno. Dopo qualche tempo capì che Zahn non desiderava affatto la mia compagnia, o almeno non quanto mi aveva fatto credere per convincermi a traslocare. Non mi invitava mai e quando andavo a trovarlo di mia iniziativa sembrava a disagio e suonava svogliatamente. Tutto questo avveniva di notte. Durante il giorno dormiva e non era disposto a far entrare nessuno. La mia simpatia per lui non aumentò. Anche se la stanza nell'attico e la musica misteriosa esercitavano su di me un fascino particolare. Avevo un gran desiderio di guardare da quella finestra, di vedere oltre il muro la distesa di tetti e campanili che dovevano trovarsi sull'altro versante della collina. Una volta salì nella mansarda durante le ore in cui Zahn era a teatro, ma la porta di camera sua era chiusa. Riuscì tuttavia ad ascoltare le esibizioni notturne del muto, prima salendo in punta di piedi al mio vecchio quinto piano, poi con sempre maggior coraggio spingendomi su per la scala cigolante che portava la mansarda. Nel corridoio stretto, davanti alla porta chiusa e con il buco della serratura mascherato, udivo cose che a volte mi riempivano di terrore. Un terrore vago e indefinibile, quello che va con il meraviglioso e il senso del mistero. Non perché la musica fosse terribile, tutt'altro, ma perché le vibrazioni non facevano pensare a cose di questa terra. In certi momenti avevano una risonanza sinfonica che stentavo a credere prodotta da un unico suonatore. Eric Zahn era un genio dal talento sfrenato. Col passare delle settimane, la musica divenne sempre più fantastica, mentre il vecchio artista si rifugiava dietro ai suoi modi furtivi e un aspetto eccessivamente macilento. Guardarlo era una pena. Ormai rifiutava di farmi entrare in qualsiasi momento e se ci incontravamo per le scale mi evitava. Ma una notte, mentre origliavo alla porta, la viola diede una babele di suoni incontrollabili, un pandemonio che mi avrebbe spinto a dubitare delle mie facoltà se dalla stanza non fosse venuta la prova che l'orrore era reale. Un urlo spaventoso, inarticolato, come solo un muto può emettere nei momenti di paura e angoscia terribile. Bussai ripetutamente alla porta, ma senza risposta. Aspettai nel corridoio buio, tremando di freddo e di paura, finché sentii che il povero musicista tentava di alzarsi da terra con l'aiuto di una sedia. Credendolo appena rinvenuto da una crisi, bussai di nuovo e pronunciai il mio nome per rassicurarlo. Sentii Zahn barcollare alla finestra e chiudere le imposte e il telaio. Poi venne la porta, chi aprì con mani tremanti per farmi entrare. Stavolta il piacere di vedermi era autentico, perché il viso stravolto brillò di sollievo e mi afferrò il bavero come un bambino afferra le gonne di sua madre. Tremando in modo patetico, il vecchio mi fece sedere mentre lui si accasciava su un'altra sedia. La viola e l'arco erano abbandonati sul pavimento. Per qualche tempo Zahn non fece niente, limitandosi ad annuire in modo strano e a dare l'impressione che ascoltasse intensamente qualcosa, con paura. Poi, come soddisfatto, si avvicinò al tavolo e scrisse un biglietto che mi passò. Tornato al tavolo, riprese a scrivere, con più velocità e senza fermarsi un momento. Il primo biglietto era breve e mi pregava, in nome della misericordia, nell'interesse della mia stessa curiosità, di aspettare che preparasse un resoconto completo, in tedesco, dei prodigi e dei terrori da cui era perseguitato. Io aspettai mentre la matita del muto volava. Dopo circa un'ora, mentre ancora aspettavo e i fogli vergati dal vecchio continuavano ad ammunchiarsi, vidi Zahn trasalire come per un terribile shock. Non c'era dubbio, fissava la finestra nascosta dalle tende e aveva drizzato le orecchie, tremando. Mi sembrò di udire qualcosa. Non era un suono minaccioso, ma piuttosto una nota musicale, bassa e infinitamente lontana, che probabilmente veniva da un'altra casa o un edificio oltre il muro d'edera, che non ero mai riuscito a vedere. Doveva esserci un altro suonatore fuori. Zahn, l'effetto fu terribile, perché, abbandonata la matita, si alzò di scatto, afferrò la viola e suonò alla notte, quella che giudico la più bizzarra delle sue esecuzioni, con l'eccezione di pochi brani che avevo sentito fuori la porta. Sarebbe inutile descrivere la musica di Eric Zahn in quell'orribile notte. Fu la cosa più spaventosa che avessi mai sentito, perché adesso lo vedevo in faccia e sapevo che la sua ispirazione era la paura. Cercava di far rumore, di tenere a bada o di soffocare qualcosa che stava fuori. Che cosa non riuscivo a immaginare, ma doveva essere mostruoso. Il concerto diventò fantastico, delirante, isterico, ma conservò fino in fondo le qualità geniali che lo strano vecchio possedeva. Riconobbi il motivo. Era una svelta danza ungherese, molto popolare nei teatri, e riflettei che per la prima volta Zahn eseguiva la musica di un altro. Sempre più forte, sempre più febbrile suonava l'arco sulla viola disperata. Il musicista era inzuppato di sudore e si contorceva come un animale, senza perdere d'occhio la finestra nascosta. Quegli ultimi passaggi mi suggerirono l'immagine di satiri e baccanti che ballavano impazziti su abissi di nuvole, fumo e fulmini. Poi credetti di sentire una nota più acuta e più decisa, che non veniva dalla viola. Una nota calma, implacabile, piena di significato, che si beffava di tutto e veniva dall'ovest lontanissimo. A questo punto le imposte cominciarono a sbattere al vento, un turbine della notte che si era alzato in risposta alla musica folle dell'interno. La viola di Zahn superò se stessa, emettendo suoni che non avrei mai creduto possibili per uno strumento. L'imposta cominciò a sbattere con più violenza, si liberò dal gancio e picchiò contro la finestra. Sotto quell'impatto sistematico il vetro si ruppe e il vento gelido entrò nella stanza, minacciando la fiamma delle candele, scompigliando le carte di Zahn, i fogli su cui aveva cominciato a scrivere il suo orribile segreto. Diedi un'occhiata al vecchio e mi accorsi che aveva superato la soglia della coscienza. Gli occhi azzurri erano vitrei, sporgenti e ciechi. La folla esecuzione era diventata un'orgia di suoni meccanici e irriconoscibili che nessuna penna potrebbe descrivere. Un soffio di vento più forte fece volare i fogli del manoscritto verso la notte. Li inseguì, disperato, ma erano scomparsi prima che raggiungessi i vetri rotti. All'improvviso ricordai il mio vecchio desiderio di guardare dalla finestra, la sola in ruda osil, da cui si vedesse il fianco della collina e la distesa della città sottostante. Era molto buio, ma le luci di una metropoli sono sempre accese e mi aspettavo di vederle anche attraverso la pioggia e il vento. Invece quando guardai da quell'altissima finestra da baino, con la luce delle candele alle spalle e la impazzita che faceva gara con l'ullulato dal vento, non vidi nessuna città. Non c'erano luci amichevoli né strade familiari, ma solo la tenebra dello spazio illimitato, spazio inaudito, vivo di musica e movimento, senza nessuna affinità con ciò che è terrestre. E mentre il terrore mi inchiudava, il vento spense le candele nella vecchia mansarda, lasciandomi nel buio fantastico e impenetrabile. Davanti a me il caos del pandemonio, alle mie spalle la follia della viola scatenata nella notte. Arretrai di qualche passo, senza poter accendere una luce e andai a sbattere contro il tavolo. Una sedia finì a terra, poi mi diressi verso il punto in cui le tenebre palpitavano di musica. Dovevo tentare di salvarmi e di salvare Eric Zahn, quali che fossero le forze nemiche. Una volta ebbi la sensazione di essere sfiorato da una cosa fredda e urlai, ma l'urlo non riuscì a sovrastare il suono della viola. Poi l'arco impazzito mi colpì nel buio e capì di essere arrivato accanto al musicista. Tastai il buio, toccai lo schienale della sedia di Zahn e gli diedi uno strattone alla spalla per cercare di riportarlo in sé. Non reagì e la viola continuò a suonare senza posa. Spostai la mano verso la sua testa e riuscì a fermare i cenni meccanici che facevano il buio. Gli gridai all'orecchio che dovevamo fuggire dalla minaccia sconosciuta della notte. Non mi badò e continuò a suonare con una frenesia impossibile, mentre misteriose correnti d'aria sembravano danzare nel buio e nel pandemonio. Quando gli sfiorai un orecchio con la mano, rabbrividi senza sapere perché. Poi gli testai la faccia fredda e immobile, la faccia rigida e senza respiro, i cui occhi sporgevano inutilmente nel vuoto. Allora capì. E allora, per miracolo, trovai la porta e liberai il lucchetto di legno. Mi precipitai fuori, lontano dal cadavere con gli occhi spalancati e dalla macabra sonata della viola, la cui furia aumentava mentre fuggivo. Corsi, volai per le scale buie. Mi gettai a precipizio nell'antica stradina fiancheggiata dalle case pericolanti. Scesi i gradini di pietra e divorai l'acciottolato che portava alle strade più basse e al fiume putrescente incassato fra gli argini. Poi, senza fiato, attraversai il ponte di pietra e sfociai nei più larghi e salutari boulevard che tutti conosciamo. Sono gli ultimi ricordi che ho dell'avventura. Notai che non c'era vento, che splendeva la luna e le luci della città brillavano come al solito. Nonostante le ricerche e le indagini più scrupolose, non sono mai riuscito a rintracciare la rue d'Ausil. Non mi dispiace troppo. Come non mi dispiace che sia andata persa in abissi inimmaginabili la confessione che, sola, avrebbe potuto spiegare la musica di Eric Zahn.